I Cattolica San Giovanni, debutto a Calvi nel recupero della prima giornata, affronta l'Agnanese all'esordio, riviato anche il match domenica scorsa contro la Bagnolese per i Neroverdi. Nel Cattolica San Giovanni ci sono alcune novità nell'undici di partenza, rispetto all'ultimo turno tra i titolari spiccano Sartori e Garavini, tra gli ospiti in panchina il nuovo acquisto Belazzini, quattro le defezioni tra i giallorossi, Pierantozzi, Gioia, Rea e Meraglia. La treno arbitrale è affidata alla signora Bianchi di Prato e all'assistente Cirillo della sezione di Roma 1 e lo bene di San Benedetto del Tronto. Partita che si doveva giocare prima a porte chiuse, poi a porta aperte, infine aperta solo agli abbonati. Insomma una serie di decisioni che comunque non aiutano il calcio di Eno, come ribadisce al nostro microfono IDS giallorosso Vino Dannelli. La situazione è paradossale perché ieri avevamo l'ordine di giocare a porte aperte, poi è arrivato l'ordine, il controordine di giocare a porte chiuse, poi quello di eventualmente fare entrare solo gli abbonati, cioè non si può andare avanti così, soprattutto in un girone dove ci sono delle toscane e noi domenica abbiamo giocato contro la squadra toscana dove appunto lo stadio era aperto. A quattordicesimo l'Agnanese è pericolosa, cross dalla sinistra di Coco a lungo oggetto il desiderio del Rimini Calcio, colpo di testa in aria sempre dell'ex Rimini Remedi con palla alta sopra la traversa, primo piano per uno dei colpi del mercato nero-verde. A quindicesimo tiro centrale di Brega, peraltro senza problemi da Piai. A diciottesimo angolo dalla destra di Giannini, in aria vengono respinti in sequenza i tiri di Remedi. Coco e Brega con la difesa giallorossa che riesce a scampare il pericolo. Al ventitresimo Colombini di testa manda abbondantemente a lato. Al quarantatresimo invece Sartori dalla destra rimette in aria il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta. Dal lato opposto la rossa, poco dentro l'aria, tende la conclusione con il pallone che si spegne a lato. Al quarantacinquesimo la partita si sbrocca. Resprinta corta dalla difesa su un traversone, la palla arriva sui piedi Giordani, suo tiro di piatto è deviato in corner da Piai. Sull'angolo dalla destra, imbattuto da Giannini, la palla viene spizzata, l'attaccante Xalbinalev e Coco in aria, completamente libero, salta più in alto di tutti e ribatte in gol. 0-1, non c'è tempo di rimettere la palla al centro che l'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. La ripresa vede gli ospiti arrotondare il risultato, a quarto rigore assegnato per l'Alnanese. Brega lavora una palla in aria, sul centro-sinistra contrasto con Palazzi con l'attaccante che anziché colpire il pallone centra in pieno la caviglia del difensore giallorosso che nell'occasione rimarrà a terra. Invece l'arbitro, deciso come non mai, assegna il penalty che Giordani trasforma, 0-2. A sedicesimo arriva invece il penalty anche a favore dei padroni di casa, la rossa viene stessa in area di rigore, da Gasco che verrà successivamente ammonito, ma Nuzzi dal dischetto si lascia neutralizzare il tiro da Ansaldi che sarà protagonista nel bene e nel male. Al ventunesimo arriva il tiro dalla distanza di Bellazzini, il portiere respinge il tuffo e sulla ribattuta Brega è pizzicato in posizione di offside. Dall'altra parte Garavini conclude invece alto. Segue una fase di stallo, la partita si riaccende solamente nel finale. Gli ospiti in contropiede sfiorano la marcatura ma né i soldani né i Bellazzini riescono a incidere, mentre i giallorossi di mezzo alle distanze al minuto 42. Zanni, servito da Seu, lascia partire un missile da fuori aria che gonfia la rete ospite sorprendendo il portiere Ansaldi. 1-2. Vale la pena rivedere la prudezza da parte dell'ex Bellaria, davvero un gran bel gol quello di Zanni. A 46esimo il portiere Ansaldi perde clamorosamente palla su questo corner. La rosa ben appostato insacca ma l'arbitro annulla in modo incomprensibile per farlo sull'estremo difensore ospite. Ma il replay ci mostra l'abbaglio preso dalla signora Bianchi di Prato che incredibilmente nega il pareggio agli uomini di Lilli. La partita si chiude sul definitivo 1-2. L'Agnanese era al debutto in campionato d'accordo, era la prima, ma da una corazzata del genere non è possibile vedere annessie che possono costare caro. La squadra di Colombini si rilassa, si specchia parecchio, si divora qualche contropiede di troppo. Invece Cattolica San Giovanni gioca una partita tenendo bene il campo, mostrando grinta e determinazione e onestamente appunti avrebbe meritato certamente qualcosa di più, beffata o corredillo, anche da clamorose sviste arbitrali. Grazie a tutti.